Questa sono io. Beh, immagino avrete notato qualche pettorale attorno a me. Questo è perché sono in mezzo alla Nazionale di Palla a Nuoto Italiana. E voi direte, cosa c'entra una nomade digitale in viaggio per il mondo da ben 5 anni in mezzo ad una squadra di sportivi? Ero nel mio penultimo giorno in Sicilia, quando mi arriva questo messaggio. Ebbene sì, era la Nazionale di Palla a Nuoto Italiana che mi ha chiesto di partecipare a un evento che avrebbero fatto qui a Siracusa. E visto che mi conoscete, io seguo un po' il flow, come si dice. Cioè non pianifico tanto i miei viaggi e questo viaggio fra l'altro in Sicilia avevo solo il biglietto di andata. Mi sono tenuta molto libera, proprio per seguire un po' quello che mi sarebbe successo nel cammino e vedere quale opportunità, quali avventure, che cosa sarebbe successo. E quindi appena mi hanno detto di partecipare al loro evento, ho accettato. Ma visto che sono una capra, diciamo, in sport, perché non sono il mio genere, non seguo sport di nessun tipo, di nessuna nazione, ho pensato di andare ad informarmi un po' su di loro prima di incontrarli. E quindi chi sono loro? Ecco cosa ho scoperto. Cioè, sono io che non lo so perché sono... vivo in un mondo a parte. Il nazionale di pallannuoto maschile d'Italia è una delle nazionali più titolate al mondo per aver vinto in almeno un'occasione 4 dei 5 titoli internazionali più importanti, Olimpiadi, Mondiali, Europei e Coppa del Mondo. L'Italia è il campione del mondo! Continuiamoci insieme a questa campagna al sacco, a questa ritaglia a zero! Mazza! Ehm... ok, ok. E' conoscita con il celebre nome Settebello, utilizzato per la prima volta nel 48 nelle Olimpiadi di Londra, perché i giocatori passavano il tempo durante le lunghe trasferte a giocare a scopa. E quindi loro sono i Settebello. Io non so che succederà nei prossimi giorni, però andiamo a vedere di che pasta è fatta la nazionale italiana di pallannuoto. Piacere, Francesca! Grande, Francesca! Ciao, bravo! Superata! Eccoci! Siamo in macchina, stiamo andando, state andando ad allenarvi, io però sono un'altra, non lo dico subito! Io sudo solo a guardarle. Ma cosa abbiamo in comune io e la nazionale di palla a nuoto italiana? A pensarci assolutamente niente Loro si muovono in gruppo, io viaggio da sola Loro si allenano fino ad otto ore al giorno per preparare il loro fisico Mentre io alleno principalmente la mia creatività Loro giovanissimi rappresentano l'Italia in tutto il mondo Io cerco di far conoscere invece il mondo agli italiani Ma continuiamo con gli allenamenti Sono tornata a Piazza Duomo qui a Siracusa Ho fatto andare i ragazzi a riposarsi Perché domani mattina alle otto e mezza allenamento questa volta in acqua Andiamo a vedere se capisco che cos'è questa palla a nuoto Ciao Ciao Buongiorno Ciao Buongiorno Matteo, piacere Francesca Francesca, piacere scusate Inizia l'allenamento così Grazie Inizia l'allenamento così Ieri gliel'ho chiesto perché sono completamente ignorante in materia Dicono che non toccano Cioè loro giocano senza toccare con i piedi Non so, magari è una cosa normale per voi Per me è una cosa pazzesca Questa è la palla da palla a nuoto Che sarebbe? Che sarebbe? Eh beh, è tipo quella della basket Ancora, la sua storia Ma voi avete idea di cosa vuol dire allenarsi per otto ore di seguito? Beh, io so cosa vuol dire montare un video per otto ore di seguito Ne esci stanchissimo ma felice Sapete un'altra cosa che avevamo in comune? L'amore per l'acqua È il loro elemento tanto quanto il mio Anche se in modi diversi E infine un'altra cosa che sembrava avessimo in comune Era il sorriso In tre giorni passati con questi ragazzi Era difficile vederli seri Soprattutto più tardi quel pomeriggio Quando siamo andati a mangiare al mare Per fare tutto quello che non si poteva « Charge!» «Dance to the Rhythm» «Canton computer» «Canton computer» «Canton computer» «Canton computer» Siamo venuti a pranzare al mare. Suena mi tambor, rompero te sto amando. Suena mi tambor, la gente sta gozando. Suena mi tambor, rompero te sto amando. Giornata al mare finita, posso reputarmi soddisfatta. Mi ha passato la giornata fra cibo siciliano, giocate a palla a nuoto e mare spettacolare. Quindi completamente soddisfatta. Domani i ragazzi hanno la partita, quindi domani li seguirò. Ciao ragazzi, vi aspettiamo domani al Circolo Unione di Siracusa. Ci sarà la diretta YouTube sul canale Official Settebello. Sietichè! E niente, non ci potevamo perdere. il bagno al tramonto andiamo e niente la serata è finita così è arrivato il giorno della partita i ragazzi andranno a giocare fra di loro in un beach pool party praticamente è un'esibizione e la faranno al mare quindi solitamente ovviamente è fatto in piscina però questa volta la fanno al mare quindi penso sia un po' più difficile dove stiamo andando? al beach pool a giocare 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 inizia la mia prima partita di pallonuogo guardando la mia prima partita di pallannuoto mi rendevo conto sempre di più quanto quel mondo fosse lontano dal mio e quanto per me sia affascinante conoscere mondi diversi è quello che faccio con ogni mio viaggio e con ogni esperienza nuova mi nutro della differenza che riesco a trovare nelle altre persone e cerco di farlo un po' mia partita finita ho pure un regalino e domani si continua il viaggio ultimo giorno con i ragazzi del Settebello e noi dove stiamo andando? da questi ragazzi ho imparato e confermato che se si è appassionati in qualcosa che se ci si dedica a migliorarsi ma con il sorriso sempre sul volto le soddisfazioni arrivano ciao